Cari amici, chiedo al collega e amico Marco Tosatti di ospitare questo mio intervento sul suo blog Stiluncurie in risposta all'ultima replica di Don Francesco d'Erasmo intitolata Declarazio, sede impedita, sede vacante, sanazio, che potrete vedere sul blog di Marco Tosatti. Don Francesco d'Erasmo sostiene che quando anche la Declarazio di Papa Benedetto fosse nient'altro che un annuncio di sede impedita bisogna però aspettare, e il Tribunale del Papa per prendere posizione, bisogna aspettare una dichiarazione ecclesiastica. Ecco, questo è smentito in modo totale dall'articolo 76 della Universi Dominici Gregis, leggo Se l'elezione fosse avvenuta altrimenti da come prescritto nella presente Costituzione o non fossero state osservate le condizioni qui stabilite, quindi il fatto che la vacanza della sede per rinuncia non è rimasta valida a norma del canone 332.2 che richiede la rinuncia al munus l'elezione è perciò stesso nulla invalida. E ora attenzione, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito, ripeto, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito questo che cosa vuol dire? Vuol dire che il Cardinale Ratzinger e Papa Voetiva hanno previsto tutto hanno previsto che ci sarebbe stato un antipapa e che il vero Papa impedito dall'antipapa non avrebbe potuto dichiararsi in modo esplicito, chiaro. Perché? Perché questo faceva parte di un disegno cristico un sacrificio alla passione della Chiesa. Quindi Gesù non è che si è messo a protestare quando l'hanno messo in croce non è che ha cominciato a inveire contro gli ebrei, contro i legionari, ma quando mai? Si è fatto mettere in croce come un agnello sacrificale. E la stessa cosa ha fatto Papa Benedetto Ora, il Cardinale Ratzinger e Papa Voetiva hanno però dato la possibilità al popolo cattolico di separarsi il grano dalla zizzania, il grano dalla pula. Come? Grazie a questa clausola, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito. Loro sapevano che la Chiesa sarebbe stata usurpata da un antipapa che avrebbe avuto in pugno le gerarchie e quindi se sarebbe stato un controsenso chiedere che le gerarchie dell'antipapa dessero un pronunciamento sull'antipapato in corso, sarebbe come aspettarsi dai giuristi di Gheddafi che dichiarino Gheddafi l'usurpatore del potere. È ovvio, no? Se Gheddafi ha preso il potere come puoi chiedere ai suoi giuristi di metterlo fuori legge? Ecco perché nella Universi Dominici Gregis di fatto si dà il potere al popolo cattolico di riconoscere che Bergoglio è un antipapa di disconoscerlo, di rinnegarlo senza che occorra la dichiarazione da parte della Chiesa. È perfetto, è assolutamente geniale. Diciamo che Ratzinger e Voetila hanno predisposto la rivoluzione del popolo cattolico, la rivoluzione controllata del popolo cattolico. Quindi questo è un aspetto di rimente. La declarazione è stata individuata come un annuncio di sede impedita, ma quello che conta alla fine della fiera è che la rinuncia del sommo pontefice non è avvenuta a norma del canone 332.2. Basta, questo è immediato, senza stare a leggere i codici Ratzinger, il rompicapo della mozzetta rossa, malachia, non c'è bisogno di nient'altro. Vi basti sapere che il canone 332 richiede la rinuncia al munus e Papa Benedetto, pur citando il munus, ha dichiarato di rinunciare al ministerium, cosa che avviene solo in sede impedita. Ma anche se non ci fosse la sede impedita, lasciate perdere. La vacanza della sede non è avvenuta a norma del canone 332.2. Punto! Quindi l'elezione di Bergoglio è stata nulla invalida e Bergoglio non ha alcun diritto. E questo noi lo possiamo dire senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito da parte della Chiesa. E da qui poi lo sdegno di Don Francesco d'Erasmo sul fatto che dei fedeli non hanno più voluto andare alla messa in comunione con Francesco è del tutto fuori luogo. Per quale motivo? Perché l'Ecclesia d'Eucaristia, enciclica del 2003 Papa Oetiva, dice all'articolo 39 che ogni valida celebrazione dell'Eucaristia esprime l'universale comunione con Pietro e con l'intera Chiesa. La comunione con il Papa è un'esigenza intrinseca della celebrazione del sacrificio liturgico. Quindi la Universi Dominici Gregis mi dà il diritto di verificare che Bergoglio non è il Papa. Perché? Perché Papa Benedetto non ha rinunciato al papato a norma del canone 332.2. E quindi io non vado alle messe una cum Papa Francesco perché lui non è il Papa. Tralasciando il fatto che sia apostato, eretico, quello che vuole. Basta che non sia il Papa, non ha importanza il resto. E quindi io cerco le messe prima in unione con Papa Benedetto e poi dopo la sua morte in unione con la Chiesa, come da formula della sede vacante. Quindi nessuno sta dicendo che bisogna allontanarsi dalla Chiesa, uscire dalla Chiesa, abbandonare i sacramenti. Tutt'altro. Bisogna fare un macello, chiaramente nei termini della correttezza formale e giuridica, denunciare che Bergoglio non è il Papa, esercitare pressioni sui cardinali affinché, grazie all'articolo 3 dell'Universi Dominici Gregis, che da loro il dovere e quindi anche il potere di intervenire, dichiarino semplicemente vero Papa mortus est. Il Papa è morto, bisogna convocare un conclave. Come la prenderà Bergoglio? Non ce ne importa niente perché tanto non è il Papa. Punto e basta. Chi l'ha detto? Lo possiamo dire perché la Universi Dominici Gregis all'articolo 76 ce ne dà il potere. Bene cari amici, vi ricordo i prossimi appuntamenti con le conferenze su Codice Ratzinger. Oggi alle 14 ci sarà il raduno di Don Minutella a Bologna. Domani mattina a Bologna alle ore 10 sarò al Centro Foscherara via Abba numero 6 per la conferenza su Codice Ratzinger e parleremo anche di questa importantissima questione. Iscrivetevi a questo canale se non l'avete già fatto e grazie, un caro saluto a tutti.